17-27 parla del brutto incidente che hanno causato quei youtuber romani per fare una challenge, per fare hype Dio solo sa che ha causato appunto la morte di un bambino di 5 anni 17-27 in questo video li attacca e fino a qui ci siamo però vuole rendersi protagonista ancora una volta parlando, dicendo che questi youtuber hanno in realtà copiato lui lui ha preso il muro e non saranno mai come lui trovate anche uno short comunque di questo video ma io vi lascio adesso quello completo, cioè le tre stories complete magari potete giudicare tranquillamente voi con un commento qui sotto quello che ritenete opportuno dire voglio mandare un messaggio a tutte queste persone affette ormai da megalomania e dirvi ragazzi che se avete bisogno di trovare l'estremo e soprattutto alla guida di certe autovetture andatevene in pista vi andate a sfogare in pista perché la strada è un mezzo per andare da un punto ad un altro non di certo per fare certe challenge o cazzate varie perché per diventare famosi voi avete tolto a vita ad una creatura vergogna per dare il successo altrui ho preso il muro io non ho fatto vittime non ho fatto niente ad oggi ti dico che era una bravata e ti dico a me ha reso famoso per fortuna non ho fatto vittime ringraziamo il cielo che tutto sia andato come doveva andare ma smettetela di fare bravate alla guida siete egocentrici siete pazzi vergogna e siete anche ignoranti a credere di poter diventare famosi idoli facendo delle bravate della mia bravata ne è diventata un'icona poiché dietro c'era una persona simpatica che è stata la persona giusta per intrattenere l'intera italia in un periodo brutto come il covid ma voi state solo che facendo problemi reati omicidi perché siete assassini a guidare così per strada e questa cosa non va bene non sarete mai famosi quello che vi rende famoso lo avete dentro è una qualità è un pregio e non c'è pregio a fare le bravate